Le persone si porteranno a fare i regali di Natale come voi avete scritto in corsa? Certamente, questa è un'iniziativa grazie a Estra che ci ha dato fiducia e ci ha dato la possibilità di iniziare da oggi questa iniziativa che si chiama Un Taxi Estra per Natale, ovvero tutti i clienti Estra che all'interno del taxi ci esibiranno o la bolletta o la foto della bolletta oppure che siano over 65 e hanno diritto ad andare dalla loro abitazione presso una qualsiasi attività commerciale dell'area urbana, che sia Corso Italia, che sia Via Fiorentina, Via Vittorio Veto, non importa un'attività commerciale oppure presso l'ospedale o i loro medici di condotta e loro chiameranno un taxi da casa in maniera normalissima, quando arrivano in macchina ci dicono guardi io faccio parte dell'iniziativa per questo motivo e noi l'accompagniamo, il cliente non pagherà un euro perché le corse sono tutte pagate da Estra, 500 corse da oggi fino a esaurimento corse e noi entro credo il 6 di gennaio, presumiamo quindi non solo Babbo Natale ma anche la Befana assolutamente, anche la Befana dovrà ricevere i suoi doni e dovrà essere contenta e spero che siano contenti anche i commercianti oltre che i cittadini che soffriranno di questo servizio Si lascia alle spalle un anno davvero brutto e particolare e si spera nel 2021 Assolutamente, abbiamo iniziato nel lockdown a fare varie iniziative la sera perché giustamente non avevamo niente da fare, dunque giravamo per la città a cercare di aumentare un pochino l'atmosfera non abbiamo mai mollato un giorno in tutte le varie zone rosse, lockdown la notte è stata sempre coperta da miei colleghi, da me, notti che non abbiamo mai fatto niente tuttora dopo le 22 con la città deserta non si fa niente ma noi siamo sempre in servizio siamo sempre qui a disposizione e attendiamo a giorni anche l'apertura della piazza come vedete è quasi pronta 500 corse ma potrebbero essere anche di più Sì, iniziamo per sostenere il Natale dei tassisti, il Natale del commercio a retino e il Natale anche dell'ambiente perché il taxi è un mezzo sicuro per le persone che devono preoccuparsi del contagio ma è sicuro anche per l'ambiente perché riduce l'utilizzo dei veicoli quindi se sei cliente di Estra lo puoi dimostrare, basta una foto della bolletta oppure hai semplicemente più di 65 anni e vuoi essere trasportato in sicurezza e se sei destinato a fare acquisti in un negozio del centro ma non necessariamente potrebbe essere di via Fiorentina, di via Veneto, di un'altra zona di Arezzo l'importante è che sia nell'area urbana evidentemente e avrai la gratuità della corsa è una piccola iniziativa però significativa dal punto di vista della solidarietà del rispetto dell'ambiente e del sostegno a tutte queste categorie colpite probabilmente potremo crescere, vediamo l'effetto che fa e poi diciamo in generale volevamo esprimere una forte vicinanza a questo gruppo di tassisti che poi alla fine sono degli operatori artigiani che svolgono un servizio pubblico e come potete vedere Estra apparirà anche sui mezzi della cooperativa Taxi non solo per questa iniziativa ma per tutto il 2021